Ben trovati a tutti, buon pomeriggio, benvenuti a questo quinto appuntamento con la Ruba Business Digital School in collaborazione con Search On Media Group, io sono Alessandro Morloi Grazioli e oggi appunto è l'ultimo appuntamento, parleremo di dati di prima parte e parte zero ma rivediamo un attimino quello che è successo in questi mesi e di che cosa abbiamo parlato. Siamo partiti il 28 settembre con Marco Quadrella che ci ha raccontato appunto uno dei grandi temi sicuramente del fine del 2022 e inizio del 2023, cioè l'addio a Google Universal e l'arrivo di Google Analytics 4 che come sappiamo Google Universal ci abbandonerà a luglio di quest'anno per cui c'è grande fermento in quest'ambito e sicuramente Marco ha dato una visione anche molto pratica e diretta di quello che sta succedendo. Un'ottima introduzione per tutti, sia per i più scafati, sia per quelli che invece appunto si fanno molte domande in merito. Abbiamo proseguito il 26 ottobre, con il sottoscritto, parlando di inbound marketing e CRM che appunto sempre visto dalla parte dell'abbandono di quello che è una strategia legata ai dati di terza parte e al fare affidamento alla piattaforma esterna, parte appunto dal know-how aziendale, dalla gestione del contenuto e del contatto per generare valore. È stata un'introduzione a una tecnica che viene sempre più utilizzata da tante aziende internazionalmente ma anche in Italia. Il 30 novembre, andate avanti con una visione sui strumenti gratuiti powered by Google dalla voce più autorevole sicuramente per parlare di Google in Italia che è Giorgio Taverniti che ha dato una visione a tutti quegli strumenti che sono importanti, da conoscere, che sono gratuiti, disponibili a tutti e che hanno bisogno solamente di essere affrontati e resi operativi. Ricordo peraltro che tutti questi contenuti sono disponibili online, direttamente nella piattaforma, compresi anche di slide, per cui sia la registrazione che le slide possono in ogni momento disponibili. Dopodiché il 18 gennaio, mai nel 2023, Giorgio Taverniti è tornato e ha fatto un'introduzione alla differenza tra PR e digital PR, un confronto parallelo tra un elemento classico usato da sempre, un elemento innovativo che è andato modificandosi mano a mano durante tutti questi anni, dall'avvento dei social, ma ancora prima, soprattutto dall'avvento dei social in poi, e che sicuramente ha un impatto nelle strategie di qualsiasi azienda, media, piccola, grande che sia. E oggi arriviamo appunto all'ultimo appuntamento. Oggi è un appuntamento che da un certo punto di vista corona un po' tutto questo percorso, che è incentrato sugli strumenti nuovi e sulle prospettive per fare digital marketing nel corso di questo nuovo quinquennio che ci si parla davanti. Tante cose stanno succedendo, in questi mesi si è parlato soprattutto di intelligenza artificiale, vedremo che anche oggi in qualche maniera toccheremo il tema, perché è un tema che sarà assolutamente trasversale e che appunto sarà significativo per tutti quanti in ogni momento. Parleremo comunque first party data e zero party data, in un viaggio che ci accompagnerà per comprendere da una parte l'abbandono di quello che è un modello che ci ha accompagnato finora e vedere innanzitutto come utilizzare quello che già abbiamo e cosa aspettarci dal futuro. Vi ricordo che potete in ogni momento interagire, fare domande, a fine della nostra chiacchierata durerà circa un quarto all'incirca, ci sarà spazio per rispondere alle vostre domande. Anche in questo caso i contenuti saranno disponibili direttamente direi da domani nella piattaforma, per cui sarà possibile vedere sia l'intero webinar sia appunto scaricare le slide. Cosa vedremo? Innanzitutto sarà una cavalcata divisa in cinque macro parti che andranno poi dopo a dividersi in argomenti che si intrecciano fra di loro, per cui una cosa, ecco, scusate se ho un tono di voce un po' basso, purtroppo i malanni stagionali sono quelli che sono, per cui abbiate misericordia e passate sopra a questo piccolo difetto. Dunque, nella prima parte vedremo un breve ricapitolo sul tramonto dei dati di terza parte e cosa hanno significato in questi anni per tutti noi, sicuramente. Parleremo invece in una maniera molto sostanziale nella parte 2 e nella parte 3 dei dati di prima parte, che cosa sono, come sono strutturati, come andrebbero ristrutturati e come utilizzarli, per cui parliamo anche di data integration, di riuscire a rompere la logica dei silos e così via. Poi, nella quarta parte, parleremo di dati di parte 0, cosa sono, come raccoglierli, che importanza hanno e come integrarli nella nostra strategia. Per andare poi alle conclusioni, che saranno conclusioni non certo definitive, perché appunto il mondo che ci aspetta da qui ai prossimi anni, soprattutto nell'ambito della misurazione e delle ads, è abbastanza un'incognita e molto in movimento. Dunque, parte 1, il tramonto dei dati di terza parte e in generale dei meccanismi legati al tracciamento forsennato degli utenti su più piattaforme, più zone, più touch point e così via. Partiamo un pochettino da quello che è alla base di tutto, almeno in ambito digital sicuramente, cioè il cookie, che ormai conoscete fino a sfinimento, che è croce delizie di tutti i marketer di questi anni, soprattutto quelli che si sono dedicati al performance marketing e all'avvento di tutto questo ambito estremamente interessante, dove la misurabilità e la possibilità di targhetizzare e di migliorare le performance quasi in tempo reale era diventata fondamentale. Tutto nasce nel 1995 da un dipendente di Netscape, di origine italiana, peraltro, Lu Montulli, che inventa un sistema per garantire il conteggio di utenti unici di un sito. Cioè, a Netscape avevano bisogno di capire gli utenti che tornavano sul sito e per cui, per farlo, lui si è inventato il cookie. Qui vediamo, al lato destro della slide, appunto, un disegno del pattern pending del cookie, per cui, del funzionamento stesso. La cosa buffa che mi fa sorridere sempre molto è che lo stesso Lu Montulli ci ha regalato alcune delle cose peculiari della prima internet, della prima web, anzi, innanzitutto, che sono l'HTML Blink, cioè la possibilità di blincare delle cose a schermo, e il supporto dei browser alle GIF animate. Evidentemente era un'anima votata al marketing più spinto di quello bello grosso e ha fatto danni, però ha fatto anche che siamo arrivati fino ad adesso in questa maniera. L'altra tanto cosa interessante è che non è che il cookie è diventato un problema dieci anni fa o sette, otto anni fa all'improvviso. Il cookie è diventato un problema dal punto di vista della percezione della privacy, soprattutto nel pubblico statunitense, all'epoca molto più attento del pubblico europeo, ed è andato a un problema fin da subito. Tant'è vero che il primo articolo che riguardava la possibilità di tracciare gli utenti in maniera inconsapevole tramite il cookie risale del 96 e del Financial Time e fece appunto abbastanza scalpore. Per cui non è assolutamente in nessuna maniera una novità. Dobbiamo sempre sapere che la percezione della privacy è un fatto che dipende dai momenti e sicuramente in America all'epoca c'era già più attenzione che da noi. La tecnologia dei cookie di fatto andando avanti col tempo ha reso possibile il tracciamento del comportamento dell'utente su differenzi domini. Non solo di capire se l'utente tornava da noi oppure se appunto dargli la possibilità di compilare un carrello e trovarselo nella sessione successiva e cose di questo genere. Ci ha dato la possibilità appunto di riuscire a tracciare il comportamento dell'utente quando questo si sposta di dominio in dominio. Per cui, come sappiamo, questo apre la strada a nuovi concetti che ormai stanno diventando di base vecchi come il remarketing, il retargeting e l'advertising personalizzato. Tutte cose che fatte nel dubito modo sono bellissime sicuramente e hanno portato risultati enormi. Retargeting, remarketing ci hanno consentito di raggiungere il target giusto che voleva quella cosa che l'aveva già vista andare a insistere andare a trovare il momento di debolezza corretto e andare appunto alle conversioni in maniera molto diretta e spiccia. Ma nello stesso tempo hanno creato una sensazione di creepiness in generale che è sfociata più volte in vere e proprie paranoie. Se pensiamo c'è stato tutto il trend in cui sembrava che Facebook ascoltasse le nostre conversazioni perché noi avevamo l'impressione di aver parlato di una cosa senza averla scritta cercata mai e ci arrivava l'advertising relativamente a quella cosa è chiaro che tutto questo modo di intendere l'advertising il marketing basato sul tracciamento assoluto dell'utente quindi sulla sua profilazione assu e insaputa è sfociato sicuramente in comportamenti eccessivi. tant'è vero che adesso è cambiata la cosa ma se con anche solo qualche tempo fa qualche mese fa si andava sul sito come un peggio di Repubblica si andava a vedere che cookie venivano settati la cosa era abbastanza inquietante una trentina di cookie che si andavano da quelli vabbè chiaramente legati al funzionamento come Repubblica.it o login cata web perché fa parte di un network fino a arrivare a Google Syndication a OneTagSys a Criteo a Google Ads DoubleClick a DGRX DeepIntent Tabula a Dform insomma sicuramente una cosa cioè tutte le volte che chiunque di noi andava su Repubblica il suo comportamento veniva recuperato tracciato e registrato da tutte queste piattaforme via di server piattaforme social e così via che poi lo utilizzavano nel suo passaggio su Repubblica per fornire a D sensata secondo lo storico che loro avevano della nostra presenza e raccogliere altri dati e categorizzarci ancora di più e segmentarci ancora di più la cosa altrettanto buffa è che in realtà teoricamente dal punto di vista non della legislazione ma dell'RFC che è appunto una serie di documenti che determinano come dovrebbero funzionare le cose in un ambito tecnologico perché sono documenti di standard l'RFC che parlava dei cookie la prima ancora la prima per cui quella del 97 diceva esattamente che sarebbe stato meglio assolutamente non utilizzare cookie di terza parte questo vuol dire che già nel 97 si aveva chiaramente la percezione che un cookie da un host A che passasse a un'informazione da un host B era una cosa da considerarsi al limite del maligno al limite del non consigliabile e non sicuramente non praticabile le cose sono evidentemente cambiate dal 97 fino all'anno scorso a quest'anno in realtà le cose sono andate in maniera diversa fino all'anno scorso è arrivata in tutto questo contesto la GDPR che come sappiamo ha un framework normativo sulla privacy per cui non norma esattamente come dobbiamo fare advertising però da dei backbone da un backbone preciso che il backbone preciso si identifica in due principi fondamentali che sono il privacy by design e il privacy by default questo dovrebbe portare al regolamento del privacy che peraltro è in gestazione dal 2018 da quando ha lasciato il GDPR e continuerà ad essere in gestazione perché appunto c'è stato un grande scontro dal punto di vista dei publisher dei gestori di server degli investitori perché vedevano il proprio mercato seriamente messo a repentaglio perché privacy by design e privacy by default vuol dire che di base non traccia nessuno a meno che non gli chieda il consenso preciso e tra l'altro il consenso per la GDPR è come sappiamo un antico equivocabile col quale l'interessato manifesta l'intenzione libera specifica informata e inequivocabile di accettare i trattamenti dei dati esclusivamente per la finalità per il quale il consenso è stato richiesto per cui è estremamente limitante e non è certamente applicabile un cookie di terza parte in nessuna maniera ma più che la GDPR e il terrore della GDPR a un certo punto si è mosso il mercato sappiamo che tutti i browser di casa Apple Safari sia mobile che su Mac già da qualche tempo non supportano più i third party cookie per cui non li accettano più di base anche Firefox ha seguito anche i browser di casa Microsoft hanno seguito anche Brave addirittura e altri che hanno un browser minore hanno seguito di fatto è rimasto escluso solamente Google Chrome ma non per volontà di Google Chrome peraltro ma per volontà dell'antitrust e magari facciamo un approfondimento anche su questo nello stesso tempo si si era spostati per garantirsi la possibilità di tracciamento almeno sulle piattaforme mobili che di fatto costituiscono per gran parte dei business ormai diciamo il veicolo principale al di là del computer si faceva un tracciamento tramite user ID o tramite altre cose ma da le ultime versioni delle osse di Android in realtà viene richiesto il permesso specifico anche di poter condividere gli user ID per cui anche lì perdiamo il tracciamento e perdiamo il concetto fondamentale che è quello dell'attribution l'attribution è quello che ci ha consentito una chimera da tanti punti di vista perché non sempre era esatta e precisa ma ci ha consentito di decidere di dove andare a spendere i nostri soldi perché sapevamo con una ragionevole certezza che quei soldi spesi prima ci avevano portato un certo tipo di risultato e eravamo sicuri che venissero dal di le cose chiaramente cambiano già il messy middle di Google ci aveva indicato che non era sempre così semplice dare dell'attribution di fatto adesso l'attribution la stiamo perdendo completamente che cosa cambia sostanzialmente abbiamo dalla parte display e programmatic e dall'altra parte search e social ADV il display e programmatic cambia radicalmente noi avremo remarketing retargeting l'attribution multi-touch il controllo della reach e della frequency che sono tutte basate principalmente su third party cookie al momento poi ci sono altre modalità che stanno emergendo ma che stanno emergendo non sappiamo ancora se sono progetti di Microsoft di Google che sono molto avanzati ma che chiaramente hanno diversi ostacoli e vedremo cosa succederà dall'altra parte anche su search e social il retargeting il conversion track seppur è possibile diventa sempre sempre più difficile come dicevo è complicato dall'altra parte appunto chiaramente i grandi gruppi che vivono di AD si stanno organizzando Google ha rilasciato il privacy sandbox che peraltro già sta funzionando su alcuni browser in versione beta in cui sostanzialmente demanda a Chrome la possibilità di segmentare l'utenza per cui non c'è più passaggio di dati personali ma è il browser che decide a quale segmento noi apparteniamo tramite tramite appunto la registrazione in locale del comportamento e semplicemente l'attribuzione a uno dei segmenti e uno o più dei segmenti questo chiaramente per l'antitrust è un problema perché Google Chrome al momento ha uno share dei browser che è assolutamente maggioritario per cui è un problema evidente dell'antitrust che ha bloccato appunto la dismissione dei cookie di terze parti da parte di Chrome per evitare che diventasse che imponesse il proprio sistema poi a tutti gli altri a tutti i publisher e così via ma torniamo a noi e parlare dei dati di prima parte e parte zero che sono quelli che appunto di cui appunto ci dobbiamo occupare in questo momento allora partendo dalla nostra destra la nostra destra i third party data sono dati provenienti da fonti multipli esterne normalmente ceduti in forma aggregata e disponibili a fronte di scambio dati per cui non sappiamo esattamente la fonte per cui è una fonte mixed in cui appunto quello che noi abbiamo sono l'appartenenza per esempio di un utente a un determinato cluster in forma aggregata e così via i second party data sono invece dati raccolti di prima parte da un'altra azienda scambiati con la nostra sostanzialmente cosa che il GDPR lo stato attuale non consente a meno che il permesso iniziale consenso iniziale non lo prevedesse inizialmente quello che ci interessa principalmente sono gli zero partidati e first party data per first party data si intendono i dati raccolti direttamente dall'azienda e gestiti in completa autonomia per cui seguendo comunque sempre la normativa questo non vuol dire tutti i dati che noi raccogliamo dell'utente comunque in gran parte al di là del fair use che normalmente corrisponde allo scambio di merci per cui ai contratti e così via devono essere devono passare comunque dal consenso i zero party data tra questi dati i first party possono essere appunto le vendite il tracciamento sul sito degli utenti logati di quello che fanno e così via gli zero party data invece sono i dati rilasciati volontariamente dall'utente in seguito a uno stimolo da parte dell'azienda per cui un quiz una survey cose di questo genere che l'utente sa esplicitamente di aver dato a fronte normalmente di uno scambio o della fiducia che ha nel brand e che gli consente che consente a un brand di riuscire a segmentare l'utente l'utenza sempre di più dati di prima parte arriviamo un po' al nocciolo dopo questa prima parte introduttiva allora sparendo una magia effettivamente dei dati di terza parte o comunque del tracciamento tramite i cookie di terza parte e tramite piattaforme esterne del comportamento dell'utente è necessario ripartire dalle basi e domandarci appunto cosa sta succedendo all'interno della nostra azienda i dati di prima parte sono quindi un asset fondamentale che può essere messo a frutto per prendere decisioni e influenzare i nostri investimenti nel marketing media mix che è una una dicitura che mai con l'attribution andava sparendo o comunque non era più presa in considerazione così come tale e invece attraverso il marketing media model e altri modelli di questo tipo sta tornando alla ribalta partendo proprio dall'analisi dei dati di prima parte per dati di prima parte si intendono dati della propria audience ma non solo raccorti direttamente dall'azienda alcuni esempi fisici semplici il comportamento sul sito i dati del CRM l'analisi del marketing i dati di vendita i dati dell'assistenza ma anche per esempio dati aziendali come il magazzino la gestione del magazzino oppure la localizzazione degli store fisici le orari d'apertura degli store e così via sono moltissimi per fare un esempio partiamo per un esempio semplice di volo d'angelo su quello che potrebbero essere i dati di prima parte di un'azienda che ha un e-commerce per esempio abbiamo dei customer data che si dividono in marketing sales e CRM per marketing abbiamo l'analytics del web l'analytics dell'email marketing i programmi di fidelity le campagne di Google e così via e così via nei sales le vendite online le vendite offline i resi il supporto e così via per il CRM l'anagrafica completa che magari appunto abbiamo ottenuto tramite chiamate e così via uno storico dei rapporti che magari soprattutto in aziende B2B passa molto spesso dal CRM dall'azione commerciale e non sempre scusate bevo un attimo e non sempre da mezzi totalmente informatici il lifetime value e vedremo poi che sarà centrale il certo tipo di preferenze l'iscrizione a determinate corsi che ha fatto l'azienda e così via d'altra parte abbiamo dei dati invece che sono diciamo fanno parte dell'ambito business che riguardano il prodotto o l'azienda la grafica del prodotto il magazzino la marginalità il prezzo nel corso del tempo eventuali recensioni o per l'azienda i punti vendita come dicevamo i dati finanziari del quarter del trimestre e così via i partner aziendali eventuali fornitori e altri che possono esserci va bene ma come posso usare tutti questi dati questo diventa fondamentale per esempio facciamo alcuni esempi uno esempio molto semplice è la personalizzazione dell'esperienza utente è ovvio che in un e-commerce si possono usare i dati sui prodotti acquistati dal cliente per raccomandare prodotti simili o complementari oppure per indicare quali sono accessori relativamente ai prodotti che l'utente ha già acquistato una volta che l'utente ha fatto login o anche in un momento di postacquisto un'app di fitness per esempio può utilizzare i dati sull'attività fisica che registra da parte del cliente perché è un'app di fitness per creare un programma di allenamento personalizzato per l'utente è una personalizzazione che aiuta l'utente a navigare nel sito per esempio e crea valore e aumenta la fedeltà non deve essere mai invadente bisogna sempre andare a rispondere alle esigenze del cliente per riuscire a trovare la via giusta per poi vendere il prodotto che è quello che ci interessa l'altra cosa per cui le posso usare sicuramente è la segmentazione del pubblico poter individuare gruppi specifici di clienti con caratteristiche simili è fondamentale per tutte le azioni di direct marketing ad esempio un'azienda che vende abbigliamento può utilizzare dati acquisiti dai clienti per identificare gruppi di clienti interessati a specifici tipo scarte da ginnastica oppure a un certo tipo di abbigliamento sportivo o meno e questo ci indica sicuramente una possibile una possibile clusterizzazione oppure incrociare i dati di preferenza con quelli del carrello medio per capire quali prodotti fanno parte della sequenza che identifica un carrello medio di valore per non importante per andare a operare meglio con strumenti come email marketing sms oppure segmentazione che può creare chiaramente offerte personalizzate per ogni gruppo l'altra cosa fondamentale che torniamo a ripetere quello che abbiamo detto anche per esempio nel corso dell'inbound marketing tutte queste cose che lavorano sui dati dell'azienda possono coinvolgere l'azienda nel suo totale questi dati e l'analisi dei dati che noi abbiamo incrociata può anche portarci all'utilizzazione dei processi facciamo ad esempio che noi verifichiamo che i dati di attesa medi per un certo tipo classe di prodotti che viene comprata sono più alti del normale e noi lo vediamo perché dai dati dell'e-commerce vediamo i dati dal pagamento alla spedizione vediamo come il carrello è composto e vediamo quante volte è stato composto se quei dati ci danno che ci sono tempi troppo lunghi è evidente che per esempio dovremmo andare a ottimizzare il rifornimento di quel tipo di prodotti al contrario se le emergenze di un prodotto sono eccessivamente lunghe all'interno del magazzino è evidente che stiamo sbagliando qualcosa dall'altra parte un'altra cosa chiaramente sono tutto questo poi se uno fa un prodotto lo costruisce ancora di più ci possono dare informazioni tutto questo è possibile se siamo in grado di mixare le fonti dei dati mixare le fonti dei dati non è una cosa semplicissima diciamo potrebbe esserlo però alla fine non è semplice ci ha parlato all'inizio proprio all'inizio del concetto dei silos allora molto spesso quando lavoriamo chiunque di noi lo sa se lavora in un'azienda di medie piccole anche grandi dimensioni succede che i compartimenti dell'azienda le vendite il marketing il magazzino la produzione hanno propri sistemi spesso acquistati in momenti diversi spesso difficilmente interoperabili con dati che banalmente tra CRM e sito internet e e-commerce non condividono lo stesso ID utente questo chiaramente non consente l'interoperabilità tra i dati oppure i prodotti il magazzino l'RP che gestisce il magazzino o la produzione non condivide l'ID prodotto gestito dal sito o gestito dal CRM per un qualsiasi motivo chiaramente tutta questa mancanza di integrazione non ci consente di fare analisi ampie su tutto quello che sono i dati di prima parte per cui i dati devono essere per forza interoperabili cioè l'USD deve essere univo con i-commerce CRM e tutti gli ambiti in cui l'utente deve essere identificato unicamente e il product di banalmente di prodotto anche quello deve essere chiaramente identico e interoperabile l'altra cosa è che chiaramente sarà poi utile capire una normalizzazione dei dati perché una volta che noi mettiamo assieme questi dati riusciamo a interoperarli normalmente saltano fuori le bagagne e c'è da capire quali sono le informazioni ridondanti quali sono le informazioni discordanti per esempio la grafica del cliente che non corrisponde tra i-commerce e quella del CRM o anche il prodotto che magari noi eravamo convinti che nell'e-commerce ci fosse invece quel prodotto non c'è mai stato e per cui non l'abbiamo venduto semplicemente perché non era catalogo non era visionabile i dati di prima parte al di là di raccoglierli andarli a visionare e riuscire a metterli assieme in cui appunto un data scientist insieme all'azienda deve mettersi a fare un'opera sicuramente importante per capire quali sono tutti i vari silos e andarli a quelli utili a operare tra di loro devono essere però resi azionabili immediatamente come possono essere resi azionabili sicuramente tramite tre piloni fondamentali almeno in ambito marketing che sono l'analisi dell'utente il direct marketing e l'ottimizzazione dell'advertising allora cosa useremo un esempio molto semplice di clusterizzazione che arriva ahimè da molto lontano quello del valore medio customer lifetime value per cui il valore lungo la vita dell'utente ed è una cosa che tramite l'analisi dei dati di prima parte il nostro possesso riusciamo a fare tranquillamente con un relativo sforzo non con poco sforzo ma con un relativo sforzo ma che ci può dare informazioni fondamentali normalmente si può utilizzare una tecnica una tecnica abbastanza abbastanza utilizzata questa che non nasce l'altro giorno che è l'RFM con recensi cioè quanto recentemente l'utente ha fatto un acquisto la frequenza frequency cioè quante volte l'utente in un dato time frame ha acquistato e monetary cioè il valore del monetario degli acquisti che questo utente ha fatto la possibilità di riuscire a individuare questi cluster e dare un punteggio a ognuno di esse ci consente di andare a dare un voto a ognuno di nostri clienti e andarlo a posizionare in base anche solo un asse cartesiano su quattro per esempio quattro macro cluster ma potremmo andare veramente più a fondo e come facciamo dove ritroviamo questi dati questi dati è importante che siano il più possibile indicativi di tutto il percorso che l'utente può fare all'interno della nostra azienda se noi abbiamo una piccola catena di profumerie in cui abbiamo un e-commerce ma abbiamo anche dei punti vendita e magari abbiamo anche una linea nostra di prodotti che viene venduta anche in profumerie di altri store di altri brand chiaramente dovremmo avere i dati dell'e-commerce i dati dello store ma anche i dati dei resi e i dati della marginalità tutti questi possono andare a impattare ognuno su una delle parti per esempio sulla recensi sicuramente i dati di vendita dell'e-commerce dello store o di altro tipo sono sicuramente importanti di Amazon per esempio sono sicuramente importanti nella frequenza idem dati e-commerce e dati dello store nel monetario però invece intervengono altri dati come i dati della marginalità che possono essere presi in considerazione perché non tutti i prodotti sappiamo sono identici i dati della gestione dei resi perché magari sono utenti se riusciamo a incrociare utenti che magari acquistano molto però hanno danno anche tanti problemi di resi sono sicuramente da attenzionare e da trattare in una certa maniera sapere che ci sono è già sapere che ci sono e sapere chi sono è già una grossa forza che è all'interno del nostro senato quello che dobbiamo andare a fare con l'aiuto appunto sicuramente di qualche uno che sia un po' schillato in un ambito di gestione dei dati è trovare questi dati renderli interoperabili e poi normalizzare con uno score da 1 a 4 la frequenza la recensi e il fatto monetario dicendo 1 il pessimo e 4 è ottimo per cui sicuramente potremmo trovare che i clienti che sono recensi frequenzi e moneta rialto sono i nostri gold i nostri best i clienti top che sicuramente sono da cocolare e magari da premiare invece ci potrebbero essere frequenzi e moneta rialto ma un recensi basso clienti che abbiamo perso magari verso qualche concorrente che quindi dovrebbero essere attenzionati in una particolare maniera in un ambito B2B sicuramente anche un'azione one to one oppure frequenzi e recensi alto ma moneta ribasso per cui gente che acquista spesso ma poche cose di poco valore magari fare operazioni di upselling oppure diminuire la scontistica per vedere se un'azione diretta di questo tipo mantiene comunque quella fidelity che abbiamo oppure andare a vedere quelli che hanno fatto poca roba e dire beh questi hanno un basso interesse li togliamo via dai database o li teniamo da parte e ottimizziamo i costi di advertising per cui non li consideriamo perché effettivamente ormai anni che acquistano una volta all'anno pace non ci interessano più di tanto l'analisi degli utenti in base ai cluster di customer lifetime value è di vario tipo abbiamo detto nel CRM appunto possiamo andare a verificare la verifica di contatti diretti e le azioni in base ai cluster vediamo per esempio il cluster gold perché quel cluster gold è così cosa c'è che funziona nel CRM riusciamo ad identificare nel CRM relativamente a questo cluster delle azioni che noi abbiamo fatto che hanno dato magari una spinta di un certo tipo individuiamo che per esempio per il 70% dei nostri gold avevano fatto quest'anno un'azione di partnership di una certa maniera con delle azioni dirette di supporto dei nostri tecnici in caso di P2B quella è un'azione che ha funzionato bene che quindi è replicabile oppure la gestione dei resi e delle lamentere per certi determinati cluster magari cluster che lavorano bene che però danno tanto da fare dal punto di vista delle lamentele nella web analytics possiamo andare in base alla segmentazione che abbiamo fatto grazie ai dati di prima parte sul CLV andare a vedere quali sono i percorsi di acquisto fatti da certi determinati target da certi determinati cluster i pazzi di acquisizione quali sono le chiavi usate nel motore di ricerca interno di determinati cluster è chiaro che questo presuppone è che abbiamo un cookie di prima parte abbiamo la possibilità di vedere un login abbiamo gestito i consensi in una certa maniera però è fattibile è una cosa che possiamo tenere in considerazione l'email analytics è estremamente importante possiamo andare a vedere i cluster individuati tramite quei rapporti e andare a vedere che comportamento hanno avuto nelle mail dirette marketing ma anche nelle newsletter anche nelle mail informative capire se ci sono dei pattern che possiamo replicare per altri cluster che magari possono dare una spinta decisiva e anche la tipologia nel caso noi avessimo più iscrizioni a vari newsletter informative tecniche o meno andare a vedere in base a questi cluster di lifetime value quali sono le cose più interessanti nel magazzino come dicevamo all'inizio è possibile parlare di approvvigiammento dei prodotti in base ai cluster andare a vedere appunto quali sono i prodotti che vendono di più e che fanno un margine più significativo e fare in modo che siano sempre disponibili nei tempi magari con un'analisi anche relativamente alle tempistiche degli ordini nei tempi giusti in maniera che quegli utenti gold non debbano aspettare neanche un giorno per averli oppure sempre i tempi di spedizione dell'analisi dei tempi di spedizione ma è solo il punto di partenza abbiamo anche l'attivazione di direct marketing in base al cluster selezionato email newsletter push notification web site personalization con un alto lifetime value posso sicuramente un alto lifetime value che magari però vedo che non torno dal sito non fanno login da tempo per cui posso fare un'azione diretta su quel cluster via email via sms addirittura o push se magari questi hanno l'app già installata posso provare a fare push e capire su quel cluster lì e non su tutti perché anche questo è fondamentale lavorare su cluster precisi ti consente di ottimizzare evitare il fastidio a cluster che non sono interessati e andare invece a intercettare il bisogno e l'esigenza dell'utente che poi diventa l'esigenza dell'azienda magari invece la gente che ha fatto una sola conversione ma che sono iscritti alla newsletter aprono le mail magari si fa un'email diretta con un tono diverso con uno sconto preciso per capire se possiamo ringaggiarli per farli diventare effettivamente una marginalità vera magari hanno un alto LTV ma principalmente dai store locali per cui vanno sul sito magari mettono il carrello poi vanno a comprare localmente questo come lo possiamo vedere per esempio con una fidelity card e questo è importante per cui al posto di fare l'email per l'email marketing possono andare a quel cluster specifico sms per portarli nel negozio locale già localizzato anche questo è molto importante anche questi altrimenti si può lavorare sulla personalizzazione del sito altro punto molto importante LTV medio con molti acquisti di poco valore la personalizzazione del sito mettendo in primo piano item più costosi o item con una marginalità più alta che siano similari a quelli acquistati già dall'utente ma che siano di un brand migliore e che diano appunto una spinta alla marginalità nell'ottimizzazione advertising chiaramente andiamo invece su un territorio che è più un pochettino più complesso fino a poco tempo fa ancora adesso si possono utilizzare liste di lookalike e remarketing per facebook per google ads chiaramente c'è un limite normalmente queste liste devono essere abbastanza corpose più di mille e comunque ci saranno cambiamenti anche in questo senso perché anche in questo senso il trattamento del consenso diventa importante per cui non è detto che sia un'arma che possiamo continuare a utilizzare vita naturale durante sempre per questioni di privacy d'altra parte emergono soprattutto però per strutture un po' più grandi celle però probabilmente strumenti di questo genere semplificati grazie all'avvento di AI con cui poter avere un'interazione molto più semplice sicuramente ci sono strumenti come il marketing mix model tipo Robin di meta che consentono a fronte di dati pregressi di prima parte neanche tanto complicati sono da mettere assieme sicuramente ci vuole dell'impegno ma ci consentono di capire se il marketing mix model che abbiamo usato negli ultimi sei mesi nell'ultimo anno è efficace e quali sono per esempio le modifiche che potremmo fare e vedere anche un attribution modellata non certo precisa ma un attribution dei vari canali sia a pagamento che non che stiamo utilizzando e questo è sicuramente molto molto importante per cui incrociando tutti questi dati pur non avendo l'attribuzione certa possiamo sicuramente disumere dei macro andamenti e andare a ottimizzare la possibilità di fare advertising in maniera diversa avevo un altro goccio d'acqua non vogliatemene dunque abbiamo parlato di dati di prima parte abbiamo parlato di data integration andiamo a parlare di dati di parte zero i zero parti data sono un fenomeno che è saltato fuori da un analista di Forrester un po' di tempo fa i zero parti data ve la leggo così com'è sono come oro in quanto sono quelli che un cliente condivide intenzionalmente esplicitamente e proattivamente con un brand questo tipo di informazioni possono includere intenzioni di acquisto così come motivazioni anche più personali quando un cliente si fida di un marchio abbastanza da fornire i suoi dati più significativi che non sono nome cognome ed email ma di che colore preferisce il reggesseno per intenderci l'azienda non deve più spendersi per osservare o dedurre ah i ultimi acquisti sono i reggesseni rosa per cui ho capito che forse sono i suoi preferiti magari erano quelli rosa perché il colore amaranto con quella tonalità che lui voleva non era disponibile nel negozio cosa voglia un cliente e quali sono le sue intenzioni è il cliente stesso a raccontarsi ed è disposto a farlo anche in maniera piuttosto dettagliata allora sì è vero però dobbiamo tenere conto che è una raccolta di dati che deve essere basata sul consenso per cui devo esplicitare perché sto utilizzando questi dati e che verranno utilizzati appunto per fine di marketing non per chissà quale cosa che mi invento e che può far piacere al cliente chiaramente al cliente posso dare uno sconto di contro o cose di questo genere ma deve essere chiaro che lo scopo è uno scopo di marketing è un frutto di un patto di fiducia tra l'utente e il brand è un patto di fiducia che quindi non può essere disatteso bisogna che effettivamente si raccolgono dei dati banalmente questi dati poi abbiano un riflesso per esempio nell'approccio del brand che ha con me se per esempio salta fuori che ho fatto questo service sul colore dei reggiseni magari è importante pubblicare sul sito il risultato almeno in macroelementi se non pubblicarlo sul sito mandarlo a chi ha partecipato e magari con un'azione che sia prospettata da parte dell'azienda abbiamo visto che tutti voi comunque la percentuale il 30% aveva il reggisino amaranto che noi non abbiamo mai prodotto ci impegniamo nel corso dei prossimi sei mesi a far uscire un reggisino amaranto questo sicuramente è un impegno da parte dell'azienda ma dal punto di vista dell'utente che ha partecipato a questo survey è un riconoscimento grandissimo perché vuol dire che diventa parte dell'azienda ha fatto parte di un processo decisionale che non è una cosa assolutamente scontata essendo esplicita la raccolta dei dati elimina un pochettino quell'effetto creepy di cui parlavamo all'inizio tipico di certe esasperazioni del modello basato su serpati se chiaramente io ti chiedo il colore del reggiseno e la settimana dopo ti mando un'email dicendo abbiamo a listino i vostri tre colori preferiti è chiaro se io lo specifico che l'effetto è meno creepy che non vado sul sito a caso e mi trovo perché in un altro sito ho navigato un certo tipo di contenuti mi trovo improvvisamente alla pubblicità di contenuti simili senza che io me ne sia accorto esattamente sicuramente l'effetto di creepiness e di stalkeraggio diventa molto minore e si riaffaccia una possibile comunicazione effettiva tra il brand e l'azienda è una comunicazione che è difficile è faticosa e non è per nulla banale è molto più semplice era molto più semplice affidarsi in cookie terza parte al remarketing al retargeting che erano strumenti praticamente automatici o quasi al netto di chiaramente le abilità di chi configurava le piattaforme come come le raccolgo i metodi per raccogliere sono tantissimi abbiamo detto appunto bra color questo è un esempio appunto di un'azienda americana in cui appunto si fanno dei sondaggi di gradimento ad esempio o sui prodotti o di di qualsiasi tipo che non siano anche anche non diretti esattamente ai prodotti magari alle preferenze in ambiti similari vedete qui ci va anche sul personale what brings you here today cosa 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 ti porto qui oggi loro hanno fatto raccontami i tuoi problemi con il reggisemi ok per cui qui ci sono delle informazioni sensibili tipo ho avuto dei cambiamenti al mio corpo voglio provare qualcos'altro ho troppe cose da fare voglio che mi aiuti tu a scegliere qual è insomma sono anche cose piuttosto precise e anche sensibili che l'utente è disposto a dare però uno se ha un ritorno di un certo tipo e una fiducia del brand e due deve essere trattata questa fiducia adeguatamente altra cosa che posso fare è qui c'è una gif animata è appunto una sorta di quiz che è sempre molto engaging per cui un quiz come quelli che vediamo tante volte e alla fine di questo quiz all'interno del sito poter offrire appunto un 15% sull'ordine e la possibilità in base al quiz che io ho appena fatto di ah ti ho trovato il prodotto ideale per te è chiaro che è un'operazione che è da pensare è un'operazione che però può dare i suoi frutti indubbiamente un'altra un'altra modalità sicuramente molto molto utilizzata è quella di buttare su dei pop up con delle cose molto semplici c'è un click non di più la possibilità di lasciare una mail per cui io lo riesco a tracciare quella interazione anche se non ha fatto il login e la possibilità appunto di avere informazioni su chi ha cliccato proteine chi ha cliccato ferro e così via altre cose possiamo usare i polls nei social media non è detto che dobbiamo usare per forza il nostro sito anche i social per quanto per quanto sia si possono continuare a utilizzare l'importante è avere la capacità poi di incrociare i dati sicuramente l'altra cosa sono le salvi via email soprattutto post vendita è fondamentale che noi riusciamo riusciamo a avere delle salvi di questo tipo in cui questa è Remarkable è un Remarkable a pari di Giorgio scusate ma ormai la voce sta andando un po' a quel paese ringrazio Stefano che adeguerà il volume del microfono di conseguenza Remarkable è un'azienda che vende notepad con carta elettronica e che è molto attenta per cui chiaramente dopo la vendita di un oggetto che è comunque un oggetto premium ti manda la possibilità di fare dei survey e li aziona dopo nel senso che nella release del software successiva ti fa presente in relazione al survey che abbiamo fatto abbiamo fatto questo cambiamento perché ci avete detto che questa cosa non era ottimizzata e così via oppure l'altra cosa per esempio per certi prodotti legati prodotti in SaaS per esempio il momento dell'onboarding è un momento sicuramente importante è un momento in cui l'attenzione dell'utente è al massimo ho acquistato una piattaforma magari ho fatto il login alla piattaforma gratuita per la prova però in quel momento posso raccogliere informazioni molto importanti per esempio l'emlist chiede ma cosa stai tentando di fare con l'emlist qual è il tuo scopo cosa ti porta qui perché stai scegliendo questo tipo stai valutando questo tipo di prodotti e chiaramente l'informazione che anche questa è facile da far azionare in maniera diretta chiaramente ci vogliono alcune accortezze molto 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 precise deve essere chiaro chiarissimo il patto fra l'utente e l'azienda non possiamo chiedere dei dati soprattutto in maniera dati di parte zero in maniera proattiva senza che sia chiaro qual è il patto o siamo un brand veramente importante in cui la fiducia è estrema oppure bisogna che il patto sia chiaro mai chiedere due volte la stessa cosa dobbiamo essere in grado il più possibile di riuscire a capire quando abbiamo chiesto già la stessa cosa e magari quando l'utente non ha voluto rispondere questo è molto importante perché annoiare le persone perché non hanno risposto con la stessa cosa è controproducente e questo si va anche nel terzo punto cioè non essere eccessivamente invadenti cosa vuol dire non essere invadenti appunto non ripetere le cose ma neanche poi chiedere dati di parte zero ogni sprombattuto cioè non è che posso fare survey ogni momento posso chiedere cose ogni momento l'altra cosa è che abbiamo fatto della segmentazione prima chiaramente su questa segmentazione tramite dati di prima parte posso andare a fare a raccogliere dati di parte zero su segmenti precisi senza bisogno di raccoglierli su tutti avendo delle informazioni molto più puntuali su quello che gli utenti stanno facendo su certi target che a noi interessano interessano effettivamente l'altra cosa fondamentale che non mi stanco mai di dire anche in ambito email marketing sempre comunque nella lead generation e qui si parla in gran parte anche di lead generation in molti casi è che i dati ottenuti senza avere un magnet un magnete un ritorno uno sconto di un qualche tipo un premio la partecipazione a un premio hanno mediamente più valore molto più valore perché chiaramente se uno mi lascia i dati per avere il premio o lo sconto molto probabilmente quei dati sono sporchi sono dati che l'utente compila velocemente perché vuole arrivare al dunque vuole arrivare allo sconto per cui o è un premio e non è da subito per cui piuttosto è un premio perché l'hai compilato alla fine ti dico guarda siccome l'hai compilato io ti ringrazio ti do il 10% di sconto sul prossimo acquisto che è una leva per farlo per fare comprare e tornare e tornare e nello stesso tempo l'utente si sente gratificato e dice beh oppure magari diceva cavolo gli ho dato i dati un po' così questo mi ha dato anche un piccolo premio tutto sommato sono un'azienda per cui la mia percezione si alza inobbiamente e questi dati di parte 0 che fine fanno? i dati di parte 0 vanno all'interno vanno a confluire all'interno della nostra data strategy si mettono appunto là in mezzo ai customer data o anche ai dati di prodotto perché magari danno indicazioni su prodotti precisi pensiamo ad esempio alle recensioni recensioni sono dati zero parti recensioni sono dati zero parti che si sono dati che riguardano l'utente ma sono dati che riguardano il prodotto ad esempio sicuramente sono molto molto importanti e vanno proprio lì in mezzo e devono essere inseriti nel contesto più avanzato della data strategy non solo potrei effettuare come detto prima una raccolta di zero della parte data sulla base del CLV derivato dai dati di prima parte per cui rendono ancora veramente più un approfondimento a quella segmentazione e un aiuto effettivo alle azioni di marketing poi da fare sia direct sia appunto relativamente ai cluster su cui fare advertising e così via rivediamo appunto tutte le segmentazioni e le azioni in base a questi nuovi dati senza la conclusione dunque la parola fondamentale di tutto questo giro è la data strategy ed è una parola che troveremo sempre di più nel corso secondo me nel corso dei prossimi due o tre anni sempre di più e sarà fondamentale e molto spesso per tante aziende sarà utile affidarsi alla consulenza di persone che sono in grado effettivamente di analizzare i dati dell'azienda andarli a manipolare e andarlo ad inserire magari in dei riferimenti precisi e andare ad azionare una volta questo tipo di cosa non è che non si sia mai fatta si faceva ma si faceva ad altissimo livello a livello enterprise molto spesso e io ho la previsione che in realtà anche con l'avvento di sistemi di intelligenza artificiale che rendono questo tipo di analisi molto più semplici dal punto di vista per azionarle sicuramente il livello di questo tipo di consulenza si abbasserà e andrà a impattare anche sulle aziende piccole e medie aziende o e-commerce piccole e medie che potranno essere in grado di tramite una consulenza come al pari di fare una consulenza su l'attribution model e il marketing su cookie di terza parte e così via sarà possibile fare questo tipo di consulenza anche da queste aziende comunque sparisce la magia del dato terzo sparito l'attribuzione effettiva è un miraggio ci possiamo far poco già all'epoca era abbastanza un miraggio remarketing e retargeting diventano veramente già poco efficaci già adesso si calcola l'ho detto trocca anche all'ultimo sms svc il 40% di un e-commerce non è più non è più remarketabile e per cui tutti quelli che vanno con un iphone non vediamo esattamente quello che fanno si continuerà a misurare comunque a fare advertising ma lo si farà diversamente GA4 arriverà ce l'ha detto Marco all'inizio arriverà GA4 sarà diverso bisognerà anche lì mettersi lì con i propri dati caricare i propri dati caricare certo tipo di contesti decidere cosa tracciare come farlo non ci sarà più la bacchetta magica ci sarà bisogno appunto di consulenza in questo senso e poi come avevo detto invece io nel secondo intervento quando si parlava del ricordare del dell'inbound marketing ricordarsi che il prodotto è contenuto e che tutto questo finirà nel calderone nella seconda la seconda cosa che succede sono i dati di prima parte parte zero allora la prima cosa è avere consapevolezza del patrimonio dei propri dati cioè abbiamo un patrimonio in azienda l'abbiamo tutti molto spesso è sparso in milioni di file excel analisi che ha fatto da parte sua solamente il reparto vendite dati dell'ERP abbiamo dati di qualsiasi genere molto spesso sparsi e poco accessibili per cui ce li abbiamo siamo sicuri bisogna solo capire che sono un tesoro per farlo bisogna capire gli obiettivi che abbiamo all'inizio della data strategy non è che possiamo fare tutto bisogna capire gli obiettivi che abbiamo definire insieme a chi ci fa consulenza quali sono i nostri obiettivi nell'arco dei prossimi 6-7 mesi capire se vogliamo migliorare un certo tipo di performance se vogliamo capire qual è il canale quali sono i canali che per noi sono più validi se vogliamo tagliare il budget diminuire il budget per l'advertising però non cedere troppo nelle revenue insomma gli obiettivi possono essere tanti chiaramente bisogna sapere bisogna pianificare a quel punto una strategia di raccolta ed analisi per cui capire quali sono gli obiettivi andare a pianificare le nostre fonti data analizzarle e raccoglierle e poi dopo implementare le azioni successivamente chiaramente emergeranno nuovi c'è bisogno di prepararsi a futuro emergeranno nuovi sistemi di attribuzione già ci sono ma avranno bisogno dei nostri dati per cui il fatto che noi avremmo fatto un certo tipo di lavoro sui dati e avremmo capito per esempio quale sono la castorizzazione dei nostri clienti ci aiuterà le piattaforme ci chiederanno un certo tipo di dati e noi saremo in grado di darglieli per avere ottimizzazione in merito all'advertising per esempio come dicevo prima le intelligenze artificiali e il machine learning avranno un peso sempre più grande per cui anche questo da tenere in considerazione non è che sostituiranno in toto però se qualcuno che mastica un pochettino di più fa un giro già un pochino più i dati e ha un minimo di competenza in quel senso fa un giro sul sito di MetaRobin si rende conto che analisi che una volta erano veramente un miraggio sono veramente facilmente ricostruibili a fatto di un minimo di competenza su un proprio computer senza enormi non piccoli ma senza enormi sforzi e questo è molto molto importante allora io sono arrivato alla fine di questa carrellata carrellata molto intensa di un'oretta quanto abbiamo fatto sì un poco più di un'oretta chiaramente sono a disposizione dei vostri dubbi le cose da dire su dati di parte 0 e dati di parte 1 sono tante è chiaro che non è possibile riuscire a fare tutto nel giro di un'ora l'importante appunto le cose che vorrei che vi portaste via sono sicuramente il discorso della possibilità e dell'importanza di andare a dimenticare che ci sono automatismi in cui tutto funziona io butto dei soldi decido i target arrivano e gli utenti vedono in coordinazione i miei prodotti e sono sicuro di capire l'attribuzione quello sparirà esserne consapevoli come essere consapevoli che certo tipo di dati tramite che noi abituati ad analizzare tramite analytics saranno più difficili da analizzare e più complicati poi da andare a leggere però nello stesso tempo abbiamo un arsenale nuovo nuovo e vecchio nello stesso tempo che sono i first party data che sono dati che vanno azionati e vanno prima di tutto raccolti pensati e messi in una data strategi ben precisa e poi dopo azionati ed è possibile azionarli senza essere per forse una grandissima azienda veramente la possibilità di andare a vedere con un po' di con qualche strumento gratuito un po' di excel un po' di analisi andare a vedere quali sono i lifetime value dei nostri clienti nell'ultimo anno anno e mezzo andando a capire esattamente a fare dei cluster veramente rende rende tutto estremamente più chiaro e semplice molto spesso la paura che ho sempre incontrato è una paura chiaramente di che nell'email marketing c'è sempre stata abbiamo un database costa poco inviare delle mail ma inviamo a tutti in realtà è estremamente controproducente l'analisi dei dati ce lo dice come fare l'advertising a tutti l'advertising a tutti non lo facciamo perché ci costa nello stesso modo fare azioni di marketing diretto verso tutti non è utile e anzi controproducente potrebbe portare dei danni seri fare andare a fare un'analisi dell'ottimizzazione dell'utente per poi andare ad azionare il direct marketing diventa estremamente importante teniamo un attimo vi ricordo comunque che le slide e anche tutto questa chiacchierata rimane rimane disponibile sul sito sulla piattaforma per cui sarà possibile rivedere questo contenuto insieme agli altri insieme ai contenuti di Marco e i contenuti di Giorgio sarà possibile rivederli tutti assieme e farsi appunto un'idea più precisa di quello che è il futuro del marketing guardate bene non solo le cose che abbiamo detto adesso per esempio si sono parte digital ma sono in gran parte azionabili anche da aziende diciamo classiche senza ombre di dubbio che magari hanno solo CRM chiamata diretta e fanno un po' di email marketing senza avere sito o senza avere altro sono tutte azioni molto molto classiche io vi ringrazio per l'attenzione e niente vi invito a tornare sulla piattaforma e a rivedere i contenuti e magari poi a ricontattarci siamo sempre disponibili grazie mille alla prossima grazie mille grazie mille